Lavorando all'estero per tanti anni per marchi internazionali, sfruttando l'opportunità di conoscere i segreti di tutti i brand più importanti al mondo, ho capito il valore aggiunto del lavoro artigianale che facevano a casa i miei e che continuavano a fare negli anni. E da lì è venuta la necessità e la voglia di tornare in Italia e creare questo nuovo progetto assieme ai miei familiari che si chiama Reborn Shoes. Mi chiamo Nicola Masolini dell'azienda Calzatore-Rificio Aeree di Masolini, SNC. La nostra attività recentemente ha preso una via un po' particolare rispetto alle altre fabbriche e aziende del settore. Ci siamo promessi di cercare di essere un po' più etici e sostenibili e abbiamo iniziato un nuovo progetto che si chiama Reborn Shoes, dove recuperiamo vari materiali non nati per essere scarpe e li facciamo diventare scarpe. Il progetto Reborn Shoes si rivolge soprattutto alle persone più sensibili al momento storico in cui viviamo, dove sostenibilità e riciclo sono le parti fondamentali per un sviluppo più ecco. Ci trovate a Gonars, Friuli Venezia Giulia e venite a comprare il nostro progetto Reborn Shoes. Vi aspettiamo.